Ritorna anche questa settimana l'appuntamento con Tra le righe incontro con l'autore. Quello che vi presento questa settimana è un libro speciale, non solo dedicato agli addetti ai lavori, scopriremo perché. Do il benvenuto a Matteo Fiorentino, storico del territorio. Ciao, benvenuto Matteo. Grazie, buonasera. Allora, presentiamo insieme questo libro intitolato Le chiese di San Giovanni Battista e di Sant'Onofrio a San Giovanni Rotondo, note sul complesso monumentale. Allora, do subito qualche indicazione su questo libro, edito da Claudio Grenzi, con i contributi di Giuliana Massimo e Giovanni Pazienza. È un libro, Matteo, che nasce da uno studio particolare. Quale? Uno studio particolare sono i lavori che ci sono stati gli anni scorsi, proprio negli anni recenti, nella rotonda di San Giovanni Battista, il Battistero di San Giovanni, nostro monumento identitario, che ha subito dei lavori di restauro. In occasione di questi lavori siamo riusciti a recuperare tantissime informazioni che ci hanno permesso di colmare alcuni aspetti ancora oscuri del nostro passato. In realtà il libro parla anche poi della chiesa di Sant'Onofrio, la seconda parte dedicata alla chiesa di Sant'Onofrio, e si forniscono anche informazioni inedite e tante suggestioni per quello che riguarda la chiesa di Sant'Onofrio, che sorge appunto a fianco alla chiesa di San Giovanni Battista, la nostra rotonda. Un libro corredato anche da numerose immagini e foto. È un libro di storia che si limita ad analizzare le due chiese? E poi aggiungo, è un libro dedicato esclusivamente agli addetti ai lavori? No, il libro parte dall'analisi delle due chiese, parte dai dati archeologici fondamentalmente, però da questa analisi poi ci allarghiamo a ricostruire il nostro, il passato del territorio, nel senso che ci sono spunti anche relativi alla storia di San Giovanni Rotondo, delle comunità cristiane che a partire dai primi secoli del cristianesimo appunto, siamo tra il Tardantico e l'Alto Medioevo, hanno iniziato appunto a frequentare questi luoghi. È fondamentalmente sì, un libro per addetti ai lavori, però è anche appunto, come dicevo, carico di suggestioni e si cerca di fare il punto su una situazione più ampia e si forniscono tante informazioni, tanti input anche appunto alla ricerca. È un libro di, bisogna avere una lettura attenta, però non è poi particolarmente ostico. Allora, partiamo dalla chiesa di San Giovanni Battista, che rappresenta il monumento identitario della nostra città di San Giovanni Rotondo e sembra proprio, pare proprio che la forma circolare del Battistero, da la forma circolare del Battistero discenda il nome della nostra città. È un complesso monumentale molto importante. Quali sono state le ultime scoperte? Le ultime scoperte, che poi in realtà vanno a riprendere scoperte che in realtà avvennero circa 20 anni fa, riguardano il recupero ormai integrale dei resti della vasca battesimale. La vasca battesimale è all'immersione che è stata ripresa in occasione degli ultimi lavori di restauro ed è stata appunto fruibile oggi e visitabile perché poi è stata inquadrata all'interno di una struttura di metallo e vetro. La vasca battesimale è molto molto importante perché considera che la nostra al momento è la quinta vasca battesimale di tutta quanta la regione Puglia. In più il nostro è al momento il terzo battistero autonomo, ossia indipendente da una chiesa di culto che pure doveva sorgere ovviamente nei pressi e che potrebbe essere una primitiva versione di Sant'Onofrio. Quindi è il terzo battistero autonomo della nostra regione insieme a quello di San Giusto, nei pressi di Lucera, e quello di San Pietro a Canosa. Quindi un'importanza notevolissima anche da un punto di vista scientifico. Da un punto di vista identitario, come dicevamo, è il nostro monumento simbolo. San Giovanni Rotondo appunto, molto probabilmente, ma quasi sicuramente, prende proprio il nome dalla forma circolare, come dicevi, del battistero. Ho visto che ci sono anche delle immagini molto belle, che poi vedremo in sovraimpressione grazie alla nostra regia, di affreschi. Parlaci di qualche affresco in particolare. Sì, il discorso degli affreschi è un discorso che rende soprattutto la Chiesa della Rotonda, ovviamente inserita nel complesso monumentale, però la Chiesa della Rotonda ha restituito un ciclo inedito di pitture. Veramente più pitture, alcuni strati sono anche sovrapposti, e sono pitture fondamentalmente che si possono datare ai primi del Trecento. In particolare, ecco, al di là della vasca battesimale, è proprio la presenza di questo corredo molto ricco, che si distende sulle pareti, a fare di questo monumento veramente un polo di attrazione, anche per i visitatori, per i pellegrini, oltre che ovviamente per gli storici dell'arte. In particolare è un ciclo che colpisce tanto l'interesse, ed è un ciclo che è datato ai primi del Trecento, e riguarda la presenza sul Gargano, e al momento questo è un unicum in Italia peridionale, la presenza di una confraternita particolare di penitenti, di flagellanti, e infatti sulle pareti circolari della Rotonda ci sono le rappresentazioni di questi penitenti che si muovono tra folle all'interno di gruppi di persone, e loro portano, molto probabilmente, sono le opere di carità, quindi praticamente loro si prodigano per accogliere, per assistere gli infermi, per dare da bere agli assetati, e questo ci fa presupporre che attorno al Trecento, quindi sempre nel complesso monumentale, una qualche committenza sicuramente elevata, e si può ipotizzare anche che siano proprio i signori di Monte Sant'Angelo in quegli anni, a promuovere la presenza di questa particolare associazione, e in quegli anni appunto si può immaginare che a San Giovanni Rotondo la chiesa appunto assista, venga data appunto in concessione a questo straordinario, questa congregazione, questa confraternita, adesso non saprei bene proprio come definirla, che però sicuramente era attiva sul territorio, tanto attiva da colpire anche il frescante, che dunque distende sulle pareti di questa chiesa, che probabilmente in quegli anni poteva fungere da oratorio, le loro attività. Una sorta di chiesa nella chiesa, una sorta di oratorio all'interno di questa, della chiesa che faceva ancora parte del complesso. Da profana, quello che mi ha colpito di questi affreschi, sono affreschi? Sì, sì, pitture paritali, non affreschi. Ecco, mancano dei pezzi, come abbiamo potuto vedere anche dalle foto, sicuramente dovuti al tempo, al passare degli anni, però quello che mi ha colpito è proprio i colori ancora vividi. I colori ancora vividi, perché immagina questo, tra i documenti, ovviamente consultati per la stesura del volume, di particolare interesse sono le visite pastorali, ossia le visite che gli arcivescovi della diocesi, allora diocesi Sipontina, oggi in Manfredonia, di Este, compivano all'interno delle chiese, appunto diocesane. Perché sono rovinati gli affreschi? In grande parte, in gran parte perché Monsignor Orsini, che poi divenne Papa nel 1676, proprio lui dà ordine di distruggere queste pitture, perché lui le considerava ormai rovinate dal tempo, dall'usura, e quindi fu lui a decretare, sia pur temporaneamente, diciamo l'obliterazione di questi affreschi, che sono andati a finire sotto degli strati di intonaco, che però paradossalmente hanno anche contribuito a conservarli per qualche secolo, e adesso, a seguito del punto, si diceva, dei lavori di restauro, sono venuti fuori tutti quanti. Una parte di questi affreschi, al momento il 30%, è stato ripristinato, con l'autorizzazione della soprintendenza, quindi i lavori di restauro, anche compatibilmente all'economia di cui si aveva a disposizione, hanno permesso appunto la ripresa di una parte, soprattutto del ciclo dei flagellanti. Ci si augura un domani di poter completare l'integrazione cromatica, perlomeno per le parti più piccole, anche per il resto, per le lacune più piccole, per il resto degli affreschi. Benissimo, Passando invece a Sant'Onofrio, quali sono le ultime novità che riguardano questa chiesa? Chi è di San Giovanni Rotondo o la conosce bene? Anche una delle chiese centrali del paese. Di Sant'Onofrio, in realtà, mentre per la chiesa di San Giovanni Battista, la Rotonda, c'è stata più possibilità di... Ovviamente sono dati più oggettivi, perché appunto siamo partiti dall'analisi delle stratigrafie, per poi arrivare a un inquadramento storico. Su Sant'Onofrio siamo anche più aperti a suggestioni, a ipotesi, perché di Sant'Onofrio, in particolare, abbiamo stabilito una serie di rapporti territoriali, ad esempio con la chiesa di Sant'Egidio, con i ruderi della chiesa di Sant'Egidio di Pantano, che ci permettono di ipotizzare anche quelle che dovevano essere, potevano essere le prime fasi dell'edificio in età benedettina, sicuramente anche prima, perché se c'è un battistero, come appunto la Rotonda, doveva esserci necessariamente una chiesa nei paraggi. L'ideale sarebbe poter condurre, anche in un futuro, diciamo, delle indagini archeologiche, per poter dare delle risposte ancora più precise riguardo alla chiesa, che comunque è un gioiello. Sicuramente la Sant'Onofrio che conosciamo oggi ha una facces trecentesca, e quindi per il Trecento siamo riusciti a ricostruire fondamentalmente quella che era la committenza, probabilmente, c'è la presenza di un giglio angioino molto importante all'interno della chiesa, la facciata, il rosone, le pitture che si conservano anche all'interno della chiesa, e poi è molto interessante su Sant'Onofrio la ricostruzione topografica, potremmo dire, delle visite pastorali di Monsignor Orsini, che sempre nel 1600 visita la chiesa e dà ordine di abbattere tutta una serie di cappelle. Poi, per arrivare ai nostri giorni, è stato veramente, potrei dire, istruttivo consultare gli archivi della soprintendenza di Bari, che ci hanno restituito tutti gli elementi relativi ai restauri di Sant'Onofrio nel 1900, perché la chiesa era stata abbandonata, poi per volontà degli uomini, degli amministratori di allora, persone di profonda umanità e di cultura, è stato possibile ripristinare gradatamente appunto la chiesa di Sant'Onofrio. Io ovviamente per questo volume devo necessariamente ringraziare appunto i collaboratori, come si ricordava Giuliana Massimo, per quanto riguarda appunto gli affreschi, che lei è una storica dell'arte, l'architetto Giovanni Pazienza, che si è occupato soprattutto appunto dei rilievi architettonici, e nei tempi, diversi anni fa, fece anche lui appunto degli studi molto approfonditi sulla chiesa, e poi anche l'architetto Annapia di Maggio, che è di San Giovanni, che ha contribuito molto nella rielaborazione grafica delle immagini, che sono state trattate ovviamente tutte quante con dei sistemi grafici avanzati, proprio per poter restituire ad esempio le statigrafie murarie nella maniera più consultabile, più leggibile possibile. Grafica molto accattivante. Le foto invece sono? Le foto, una campagna fotografica, la facemmo con Giovanni Fiorentino, Giovanni e Leonardo Fiorentino, il papà è padre e figlio, alcune foto ovviamente sono mie, altre foto sono dell'architetto Vincenzo Basile, che è stato il curatore dei lavori di restauro degli ultimi anni, una persona anche lui di squisita sensibilità e di grande interesse culturali. Quindi abbiamo avuto la fortuna di essere attorniato da collaboratori di grandissima squadra. che appunto ha dato vita a questo libro. È sicuramente un modo anche per invitare i sangiovannesi a riscoprire queste opere d'arte e magari i pellegrini, i turisti che vengono sul Gargano, che vengono a San Giovanni Rotondo per visitare i luoghi che hanno visto la presenza di Padre Pio, invitarli a scendere giù in paese come diciamo noi che abitiamo in questa zona per davvero scoprire e visitare due gioielli in particolare appunto la chiesa di San Giovanni Battista ma anche appunto quella di Santo Nofrio. Allora ricordo il titolo del tuo libro Le chiese di San Giovanni Battista e di Santo Nofrio a San Giovanni Rotondo, note sul complesso monumentale firmato da Matteo Fiorentino, Claudio Grenzi, editore. Ti ringraziamo per essere stato con noi e ti invitiamo a ritornare nei nostri studi magari per un'altra lezione di storia e di storia dell'arte. Quando volete, sempre a disposizione. Grazie. Grazie a te.